aiaiai Nooo, nooo, ha rotto, si comunque calcano che ne mancano già tre, no due, questa è la quattro, noi sto facendo il video a micchia, che cambio! Braava! Robo il cambio! Adesso arriva l'alberato, non puoi guardare questo qua! Che caro! Ma anche su di lì non va tanto eh! Ma che arantasza su di lì non passa! Cosa vuoi? Grazie a tutti.